Non occorre spendere molte parole perché il progetto si commenta da sé. Siamo finalmente in presenza di importanti segnali di finanza etica, nel senso che questa iniziativa è diretta a favorire nuove imprenditorialità giovanili e attesta anche un'altra realtà, cioè il ruolo che hanno le banche di credito cooperativo che dimostrano ancora una volta di essere collegate al territorio, di farsi carico dei problemi del territorio, a differenza magari di altre realtà che hanno scopi più lucrativi e meno solidali. Rispondere a questa chiamata degli amministratori del Comune di Sant'Arsenio è un obbligo non solo morale ma anche di rispetto per un'idea che speriamo faccia proseliti non solo nel Comune di Sant'Arsenio ma in tutto il territorio del Valle di Diano. Dare uno sguardo e attenzionare le start-up è difficile che possano trovare riscontro in un finanziamento nelle banche comuni. Penso che noi come banche di credito cooperative siamo le sole, le uniche che potevano rispondere doverosamente e quindi è un riconoscimento che va dato all'amministrazione, all'iniziativa e per quanto ci riguarda speriamo che questa possa essere di esempio. Noi abbiamo risposto molto volentieri a questa chiamata ripeto con l'impegno insieme alla BCC di Roscigno che possiamo continuare. Le opportunità che oggi si aprono sono tante perché anche alle start-up oggi è data la possibilità di accedere a dei finanziamenti e quindi la sollecitazione ai giovani di non spaventarsi perché iniziative come queste effettivamente rispondono ai bisogni e anche alle difficoltà che fino a ieri c'erano. Da canto nostro tutto l'impegno non solo per questo ma anche per altre prospettive lo dicevamo con il direttore della BCC di Roscigno per fare in modo che in un momento così difficile noi che non abbiamo, noi banche di credito cooperativo che non abbiamo mai chiuso le porte alla economia reale ancora una volta le vogliamo continuare a mantenere aperte proprio per dare una risposta al territorio. Io dico che c'è bisogno solamente dell'idea noi dobbiamo come banche di credito cooperativo dobbiamo avere la capacità di finanziare le idee finanziare quelle che sono le idee progettuali non è facile, ritengo che certamente le banche debbano tener conto di quelle che sono le capacità reddituali però non ci possiamo soffermare solamente su questo le banche anche in questo momento debbano saper rischiare e ritengo che un giovane che ha voglia in questo momento un giovane che è motivato un giovane che ha speranza di crescere di restare su questo territorio va aiutato anche al rischio di correre qualche rischio così per le banche ma abbiamo veramente il criterio oggettivo un criterio che mira solamente a premiare coloro che hanno volontà di lavorare volontà di restare su questo territorio consapevole del fatto che questo territorio ha bisogno di giovani e i giovani sono la limpa vitale io dico sempre che non si può sperare in una crescita, non si può sperare a un risollamento di una zona senza tener conto dei giovani che sono la risorsa più importante che ha gli altri hanno il petrolio, gli altri hanno l'oro noi abbiamo i giovani sono i giovani che hanno capacità imprenditoriali i giovani che hanno capacità e voglia di lavorare vanno aiutati, vanno sostenuti vanno incoraggiati e noi cercheremo di fare tutto ciò proprio per stare vicini ai giovani e al mondo giovanile e al mondo giovanile